Quando ti faccio così, perché c'è un pezzo quello così. Si può a casa ammalato tutti. Ma a me sarebbe anche proprio fare uno stop tutti. No, solo quando facciamo questo pezzettino prima dei tuoi strumentali. Io però ora faccio così un po' di nuovo. Ma inizierei senza più. Ma piacevaci io inizierei Giulia. Ciao. Grazie. 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 Grazie.